E' in contrattendenza anche in tutta Europa, è un settore che noi consideriamo di straordinario rilievo proprio in questo momento di crisi, questo comparto imprenditoriale, perché di vero comparto imprenditoriale dobbiamo parlare, è destinato sempre più a crescere, ecco perché noi abbiamo per la prima volta nel 2011 con un documento che porta la firma mia ma anche di altri commissari, dato un quadro generale dell'importanza di questo tipo di imprese, ho poi dato vita a un gruppo di alto livello che sta preparando anche una strategia per concretamente sviluppare ciò che è stato detto nel quadro generale, annunceremo i risultati nel mese di giugno, terza cosa che abbiamo fatto, abbiamo modificato la direttiva comunitaria per gli appalti riservando uno spazio a imprese del settore no profit. In più ho dato mandato alla mia direzione generale di far partire l'iter legislativo per le regole nuove della mutua europea, ecco quindi grande impegno da parte nostra e poi anche possibilità di poter utilizzare i fondi comunitari, penso al pacchetto COSME 2 miliardi, virgola 3 nelle prospettive nel bilancio comunitario 2014-2020 dedicato alla competitività delle piccole e medie imprese e a questo pacchetto potranno accedere naturalmente tutte sia le cooperative sia le mutue, quindi tutte le imprese che operano in questo settore, che a mio giudizio deve sempre avere più spazio anche perché la stella polare della politica europea è l'economia sociale di mercato, il mercato è solo uno strumento per fare politica sociale, se noi possiamo recuperare persone che hanno subito delle traversie nella vita, che possono essere o persone disabili o persone che hanno avuto esperienze di tossicodipendenza o di alcolismo o di detenzione, poterle rimettere nella società, io posso citare un esempio che mi sta particolarmente a cuore per una comunità di recuperi tossicodipendenti che seguo privatamente come volontario e che attraverso una cooperativa ha preso in gestione un albergo, lo ha trasformato, è ora un albergo che funziona a tanti clienti in una località di villeggiatura, a Fiuggi possiamo dirlo tranquillamente e questo mi pare un messaggio concreto, una cosa concreta da raccontare, un esempio che ho vissuto direttamente e mi fa piacere che di questi esempi per fortuna ce ne sono tanti in Italia e in Europa.